Stretta sui parcheggi selvaggi e su cellulari, tablet e pc alla guida, norme specifiche per i monopattini. Da oggi sono in vigore le nuove regole del codice della strada. Tra queste spicca l'inasprimento delle sanzioni per chi parcheggia nei posti destinati ai disabili. Multa triplicata e sei punti in meno sulla patente, fino ad ora erano due. Sul fronte della sosta introdotti gli stalli rosa per le donne in gravidanza e i genitori con figli fino a due anni di età, con sanzioni per chi li occupa in modo inappropriato. Viene poi estesa la multa già prevista per chi viene sorpreso alla guida al cellulare, anche a chi utilizza pc portatili, tablet e altri device. Il codice prevedeva il telefonino, dal punto di vista tecnico e tecnologico lo smartphone è anche un telefonino, quindi c'è stato un punto di chiarezza, anche per evitare il contenzioso che negli anni in qualche maniera si sono prodotti. Quindi il capitolo monopattini, l'obbligo di assicurazione, è ancora in discussione e non sono arrivati il casco obbligatorio per tutti e la targa. Scende però il limite di velocità, vietato circolare e parcheggiare sui marciapiedi, previsti adeguamenti per indicatori di direzione di freni su entrambe le ruote. Quello che bisogna chiarire è che ci sono due scadenze, la legge entra in vigore oggi, le modifiche entrano in vigore con due scansioni temporali diverse. Per chi commercializza i monopattini dal primo luglio del 2022, per chi possiede i monopattini e dovrà sempre dotare di freni anteriore e posteriore, c'è il tempo fino a gennaio del 2024. Voglio ricordare due aspetti importanti. Non si possono trasportare altre persone, né tanto meno animali, anche quelli di affezione. In caso di scarsa visibilità i monopattini e il conducente deve essere visibile. Ci sono poi anche altri provvedimenti che riguardano i pedoni, i motociclisti, le auto elettriche e il foglio rosa che viene steso da sei mesi a un anno. Il codice della strada è dei primi anni 90, quindi a distanza di 30 anni sicuramente aveva bisogno di un piccolo aggiustamento. Ahimè, purtroppo sono ancora piccoli aggiustamenti rispetto alla necessità di magari rivedere profondamente il codice anche proprio nella sua struttura, separando norme tecniche, norme di comportamento dalle norme magari riguardanti il codice della strada, le costruzioni delle strade. Grazie a tutti.